Ciao amici, consente di dare un'occhiata nella casella prima, mi accorgo che la casella in realtà non offre alcun prezioso informazioni, hanno solo citare che cosa è incluso, sarebbe stato bello se anche parlare di tutte le specifiche, e magari aggiungere un po' di colore per la presentazione, il colore mi hanno mandato in realtà è il colore migliore guardando a mio parere, il colore oro metallico che cambia con il riflesso della luce, che anche inclusa in scatola, il cavo USB, caricatore e cuffie. L'altra cosa che hanno incluso nella scatola è uno strumento per ottenere l'accesso alla scheda SIM. Le cuffie case inclusi sono Samsung, sono il colore bianco e offrono una lunga corda. Ok amici come noi stiamo guardando al telefono, vado a fornire con le specifiche. Il telefono offre dimensioni dello schermo da 5,7 pollici con 518 pixel, tecnologia Super AMOLED 2K Quad Display HD, telecamera posteriore 16 megapixel in grado di registrare fino a 4K, fronte fotocamera con 5 megapixel con grandangolo per la grande selfie foto, storaggio interno disponibile in due dimensioni, 32 giga o 64 gigabyte, non ha accesso a micro SD card che offre anche 4 giga di memoria RAM, il processore è 8 core e ultimo ma non almeno, la batteria non è rimovibile e offre 3000 amperios mili. Nella parte inferiore del telefono vediamo la porta audio, un microfono, porta USB e la griglia dell'altoparlante. Non appena si tiene il telefono, ti rendi conto quanto sottile sia, ci si sente impressionante in mano, questa qualità urla telefono in ogni angolo, ci si sente come in possesso di un mattone d'oro o che tu abbia un milione di dollari telefono in mano. Qui possiamo vedere accanto al Galaxy Note Samsung 4. Sembra che sono circa le stesse dimensioni, dal basso in alto, ma il bordo S6 Plus è molto più sottile, entrambi offrono lo stesso fotocamera sul retro con flash e monitor della frequenza cardiaca, ma la fotocamera frontale sul bordo S6 Plus è ora più grande di 5 megapixel. Sulla parte superiore del telefono, possiamo vedere che la Note 4, offre il controllo remoto per più elettronica che non abbiamo sul bordo S6 Plus. Il Samsung Galaxy Note 4 offre tre microfoni rispetto alla S6, solo offre due microfono. Torniamo al telefono per la prima volta e dare un'occhiata allo schermo bello. Le mie prime impressioni dopo aver guardato questo telefono è che, io adoro l'aspetto, il colore, il materiale e non vedo l'ora di mettere insieme la mia recensione completa. Vorrei ringraziarvi per la visione di questo video e sottoscrivere più, se è possibile, condividere il video per aiutare gli altri, ci vediamo più tardi amici.